E benvenuti ragazzi sono i vostri Mino e Mina Oggi siamo tornati in una nuova puntata di Mastercraft Signora Ila ha questi ingredienti davanti a sé Deve farmi in meno 8 secondi Quindi devo essere già pronta Un toast Via Ci sono i panini buon Muoviti Eh ma però ci sta mettendo tutto il tempo Vada eh Cos'è te quello che registra quindi dovresti farlo te Un cincischi tanto io lo guardo qua Io sono qua la sto aspettando a questa crafting Per vedere cosa sta facendo Ma è così che gli ho insegnato andiamo Ah ma già fatto Fatto Lo metta lì sopra Sul tavolo? E certo che sì Dove lo mette per terra Allora Ecco Vediamo un po' Non va Aspetta Ok ora va Clemata vai un altro Salad dressing Vinegar Il vino Uvina Facciamo uvina Tanto mentre le fa io apro la mia borsettina Attenzione Eh devo continuare a farlo io Tutto quello che registri Anche io apro la borsettina Allora Ho trovato delle Amarant Tales Le wireless e le scale di Amaranto Non parlo niente Le scale di Amaranto Belle È proprio a Pisa Sono molto belle Le scale di Amaranto Comunque Com'è che si fa Il vine Ti serve un succo In tutto ciò stiamo facendo una moda abbastanza Inutile però Venga qui e qui Veloce Veloce Ma anche il sale In un succo Per fare il vino Ma anche il sale è lo stesso Fatta anche questa Veloce Burger flipper Il flipper? Perché Perché Hamburger Hamburger L'hamburger Veloce Dov'è la padella? È lì Ecco Guardi che io sono velocissima Guardi Padella Bistecca No non mi è andata in automatico Padella Bistecca E panino Perché non va? Ah perché ci vuole il toast Mi porti il toast Ti vuole questo Toast sì Veloce Devo fare io Ecco l'hamburger Presto Veloce Un altro fatto E ora Ma quello fa Fish food Sandwich Fish Fish sandwich Ci vuole Giustamente un pesce La maionese Che ce l'abbiamo Gliel'ho messa lì sul tavolo Ce l'ha A muoversi Vai a prendere il pesce Io intanto allungo il tavolo Si muove qua il tuo pesce Forza Ti vedi l'ho pescato Forza a muoversi Ho fatto notte Ho fatto notte no È laggiù Ha preso la maionese C'è già la maionese C'è già la maionese Ma perché non fa Perché ci manca una cosa E' lei che ha preparato E' lei che ha preparato gli ingredienti Il pane l'ha preso No Si ce l'ha nell'inventario Ai 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 Ma tu dove vieni Ti levi Ecco Ah va messo anche nell'ordine giusto Eh Va Fatto io Mi riprendo i miei panini E andiamo a vedere quanto da Il pet posto Ora Tasti pasta Spaghetti 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 Scusi Poma Tomato Il tomato come si fa? Il pomato Con i semi dei pomodori Che non so Come la pasta Butter Butter Cioè burro E Doot Cos'è il doot? Boia Oh signore Questa è grossa Questa è grossa Ho messo altri due Aggeggini Utensili Ok Guardi signor Signore 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 Ho l'ha rinnaffiatoio Veloce Faccio un po' di pipì Sui pomodori Siamo qui a pettinare babuini I babuini Eccoli Guardi come sono sta brava Perfetto Vai col tomato Manca la pasta E come si fa? Burro Che ce l'abbiamo Sale E farina Farina so come farla Lei pensi al burro Veloce E un attimo Ho fatto il burro Perfetto Lei l'ha fatto il sale? Io no Mi porti il pot Eccolo qua Uno E due Pasta E il pasta sarebbe così Con le foglie Solo che con le foglie Ragazzi Non riusciamo a farle Perché Questa qui Spice left È tipo il basilico Perché non si lascia capire come farle Ci mancano i semi Se voi ragazzi lo sapete ditecelo perché Come si fanno a fare questi semi qui Per andare avanti Anche con l'insalata Con i peggiolini Con le varie C'è l'insalata Ok Noi andiamo avanti Questa e queste non si può fare Però se ne fanno altre Ovvero Ah il tomato qui c'è Prendiamo Eeeh Questo Eh non so se si può Early breakfast Questo qua Allora Seeeh Quanta roba Vai 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 ci si fa Dai l'ultima cosa E poi ci si fa Un uovo fritto Cioè Allora te prendi la carne Cooked Ok una Di maialino Sì E qui è la padella con l'uovo Padella con l'uovo Deve essere facile Padella con l'uovo Faccio L'ovettino fritto Alla cocche Mi stecca cotta Faccio anche il toss E le uova non ce le abbiamo Perfetto Com'è possibile Non avere le uova Abbiamo finite Non lo so Però abbiamo le uova di gallina Abbiamo le uova di gallina Sì Qua dove c'è l'altare Mi sembra Sì Prendiamo due uova Faciamole Andiamo a prendere dei semini Facciamole accoppiare Ecco le qua Due galline Salve E ora iniziate a fare le uova E ora iniziate a fare le uova Veloci Intanto noi andiamo avanti Cos'è che dovevamo fare Ehm Toast di nuovo Bisogna farlo Già fatto Già fatto Perfetto Da fare il poteto Vediamo la cosa dei semi Perché ragazzi siamo bloccati Perché non ci sono semi Allora C'è il tomatosi di per cielo Sì perché li abbiamo trovati nelle borsette E lì devi avere cura e trovare la roba nelle borsette Allora aspetta un attimo Non è che in altre borsi con queste qua Ci danno No è possibile ci danno i semi qui E qui è boh Sicuramente non saprei ragazzi Cioè qui abbiamo fatto tutto Ragazzi siamo bloccati qua Perché potremmo finire tutto Della Masterchef Ovvero Let's Kitchen Però non riusciamo a capire Cosa Cosa c'è Cosa c'è che manca Cioè cosa c'è che manca Come si fanno le cose che mancano Da dove si trovano Quindi boh Non lo so Non credo si possano craftare Io domando a voi Come si fanno i semi Cioè come si trovano i semi Se lo sapete per favore Commentate sotto Così almeno andiamo avanti E ci vediamo Spero nel prossimo episodio Con delle risposte Da mini e mini Di avvenzione in tutta linea Allo studio Ciao ragazzi Casomai iniziamo la terza quest È vero Intanto però voi ragazzi Commentone Iscrizione E mi piace Ciao 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 Dai Iscriviti al canale Dai Tu Iscriviti E aspetta